Nel 2015 aveva avuto 470 denunce di malattia professionale, nel 2016 nel solito periodo ne ha la bellezza di 499 con un incremento del 5,95%. Perciò sono dati preoccupanti. Sono i dati che riguardano le malattie professionali più negativi del bilancio ANMIL 2016 di Fusin, provincia di Arezzo, alla vigilia della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stiamo parlando soprattutto di asbestosi e silicosi. Le malattie sono delle patologie tumorali che colpiscono in prevalenza chi è stato a contatto con agenti chimici oppure con amianto. Edilizia e industria sempre perché edilizia, l'amianto era usato un po' per tutte le casistiche di lavoro, comunque per tutte le soluzioni di isolamento veniva usato l'amianto in passato. Nella provincia aretina le malattie professionali nel 2016 sono appunto aumentate di quasi il 6%, un dato negativo rispetto alla media nazionale che si attesta all'1,94% a quella regionale che invece si attesta all'1,17%. Sono in calo invece gli infortuni in provincia di Arezzo di oltre il 6%. Il dato aretino 6,82% di calo è decisamente in controtendenza rispetto alla media nazionale che invece registra un aumento dello 0,27%. È un dato discordante e secondo me è legato anche al fattore occupativo e oltre questo anche al fatto che in molte realtà non viene denunciato di infortuni sul lavoro ma viene denunciato come malattia. Nella aretino nel 2015 nei primi 7 mesi avevamo 5 denunce di infortuni mortali e nel 2016 ne abbiamo invece 4, perciò ne abbiamo una di meno rapportata al solito periodo dell'anno precedente. Grazie. Grazie.